ciao a tutti ciao a tutti benvenuti adesso basso un pochettino questo magari fa riflesso eccoli qua ciao benvenuti alla lezione di di tioga mobility aspetto spero che siate bene grande grande semella ciao francesca ciao 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 laura ciao meri grazie di essere qui sono un po in anticipo quindi aspetto almeno le ciao fede aspetto almeno le cinque e mezza per aiana ciao alice per cominciare saste ciao micchi ciao vi saluto tutti ciao angie ok va bene allora intanto comincio con intanto che qualcun altro entra comincio a descrivermi questa classe grande ross ciao ciao allora questa classe di yoga quindi ormai mi avete seguito probabilmente già qualche lezione di tioga quindi avete capito un pochettino di cosa si tratta e non si salta no no oggi no non si salta particolarmente è concentrato e focalizzato sulla mobilità in particolare sulla mobilità delle spalle e delle anche quindi andremo a fare dei movimenti che in qualche modo vanno a testare e sciogliere se vogliamo usare questo termine un pochettino la zona delle spalle e delle anche renderla appunto il movimento più fluido andare a esplorare diversi tipi di movimento ok ok perché sappiamo che sia le spalle che le anche diciamo possono fare veramente un sacco di cose e probabilmente oggi e normalmente sono ma sono parti che teniamo invece abbastanza stabili quindi dunque 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 sto vedendo che qualcun altro continua a entrare non so se siamo di passaggio o se vogliono praticare quindi come vedete sono piedi nudi non servono scarpe non serve niente abbiamo il tappetino e adesso io terrò un pochettino la felpa in questa prima parte perché sto belando però dopo insomma ci verrà ci riscalderemo ciao a tutti ciao a tutti va bene allora ok allora cominciamo come una lezione di yoga normale quindi ci mettiamo con le gambe ricorciate sul tappetino le mani sulle ginocchia manteniamo la schiena in una posizione allungata mano rigida e proviamo a riposare lo sguardo o a terra oppure lasciando proprio chiudere le palpebre e cominciamo a portare l'attenzione sul nostro respiro osserviamo l'aria che entra ed esce attraverso le radici se vogliamo facciamo filcare l'aria attraverso la gola dando quindi inizio al nostro respiro già e altrimenti continuiamo a respirare normalmente e adesso attenzione solleviamo la mano destra la portiamo il petto appoggiamo la mano sinistra a terra e continuiamo a fare questo movimento di respiro connettendoci quindi anche con il battito del cuore e ancora di più con quel movimento che il nostro respiro esercita sul petto e attenzione la mano sinistra e le mani mettere invece sulla pancia e di nuovo lasciamo che il respiro si muova naturalmente osserviamo la sua curva la sua fluidità e anche se questa non dovesse esserci è lo stesso anzi ancora di più lasciamo andare il respiro senza cercare di controllarlo e attenzione adesso spostiamo la nostra mano destra nel fianco destro e continuiamo a respirare e poi la mano sinistra sul fianco sinistro e di nuovo osserviamo quei minimi movimenti che il respiro crea adesso portiamo la nostra mano destra sulla nostra clavicola la parte destra e la mano sinistra sulla parte destra della clavicola molto bene inspiriamo e andiamo ad approfondire questo abbraccio vediamo come ad afferrarci le spalle dietro e cominciamo a ruotare il petto da un lato all'altro lentamente so molto bene e adesso lasciamo scendere le braccia a terra e invertiamo la posizione, quindi cambiamo l'incrocio delle braccia, andiamo di nuovo ad afferrare come le due spalle, la parte superiore delle spalle e di nuovo lentamente andiamo a ruotare la schiena destra e sinistra. Molto bene, ritorniamo al centro, inspiriamo ed espiriamo, appoggiamo le mani a terra, inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, portiamo la mano destra sul ginocchio sinistro, inspiriamo e esterniamo la colonna ed espiriamo il braccio sinistro, lo portiamo verso destra, inspiriamo, solleviamo il petto verso l'alto ed espiriamo resto, inspiriamo ed espiriamo, scivoliamo avanti e poi vado indietro a fare un'apertura, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, scivoliamo avanti, faccio tutto il cerchio possibile, apro il petto, inspiro ed espiriamo, scivoliamo avanti, apro e di nuovo ancora due volte, inspiro ed espiriamo, scivoliamo avanti, apro e senti bene l'apertura della spalla, inspiriamo ed espiriamo l'ultima volta, sento bene l'apertura della spalla, molto bene, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, appoggiamo la mano incrociata sull'altra, inspiriamo ed espiriamo, scivoliamo giù con il petto, inspiriamo, solleviamo il petto verso l'alto come se volessimo inarcare la schiena ed espiriamo, la arrotondiamo, ancora inspiriamo, la voglio inarcare ed espiro arrotondo, ancora inspiro, la voglio inarcare ed espiro, la voglio arrotondare, molto bene, inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, riportiamo le mani a terra, benissimo, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, il braccio destro va verso sinistra, inspiriamo, solleviamo, scusate ed espiriamo, appoggiamo, ok, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, il braccio sinistro va verso destra, ed espiriamo, solleviamo il braccio destro ed espiriamo, scivolo giù, faccio tutto il giro e sto attento ad aprire bene il petto, di nuovo, inspiro, sollevo ed espiro, scendo giù, inspiriamo, apro bene il petto, inspiriamo, sollevo ed espiro, scendo, e inspiriamo, apro, su ed espiro, scendo, ancora, inspiriamo, apro bene il petto, sollevo ed espiro, arrotondo, l'ultima volta, inspiriamo, apro, sollevo, ed espiriamo, scendo, molto bene, inspiriamo, solleviamo su ed espiriamo, incrociamo davanti, inspiriamo, apro il petto ed espiriamo, scendo giù col petto, e di nuovo, inspiro, immagino di inarcare la colonna ed espiro, arrotondo, inspiriamo, inarco la colonna ed espiro, arrotondo, ancora una volta, inspiro, inarco la colonna ed espiro, arrotondo, l'ultimissima, inspiriamo inarco ed espiro, arrotondo, molto bene, portiamo le braccia avanti, inspiriamo, scivolo avanti ed espiriamo, appoggiamo le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche, molto bene, adesso inspiriamo, estendo la colonna ed espiriamo, arrotondo, espiriamo, estendo ed espiro, arrotondo, ancora inspiro ed espiro, arrotondo, due volte ancora, inspiriamo, estendo ed espiro, arrotondo, l'ultimissima volta, inspiriamo, estendo ed espiro, arrotondo, attenzione ragazzi, manteniamo la schiena in una posizione neutra e cerchiamo di isolare come questa parte, ok, superiore da qui a su, quindi inspiriamo, estendo solo quella parte ed espiriamo, arrotondo solo quella parte, ed espiriamo, estendo, quindi apro bene questa parte qua in avanti del petto ed espiriamo, arrotondo, e ancora, inspiriamo, estendo ed espiriamo, arrotondo, ancora, inspiriamo, porta il petto, arrotondo, ed espiriamo, arrotondo, molto bene, attenzione, inspiriamo ed espiriamo, ritorno con la schiena in neutro, adesso mi concentro sulla parte da qui a giù, quindi, inspiriamo, estendiamo verso l'alto ed espiriamo, arrotondo, inspiriamo, estendo verso l'alto ed espiriamo, arrotondo, ancora, inspiriamo, estendo ed espiriamo, arrotondo, immaginiamo come di avere una coda, quindi, ispiro, porto questa coda verso l'alto ed espiro, arrotondo, anche se il movimento è piccolo, va benissimo, inspiriamo, estendo ed espiro, arrotondo, attenzione, inspiriamo, apro il petto verso l'estero ed espiriamo, e chiudo sotto il braccio sinistro, inspiriamo, apro ed espiriamo, chiudo, ancora, inspiriamo, apro ed espiriamo, chiudo, cerco di mantenere stabile il bacino, inspiro, apro ed espiro, chiudo, benissimo, l'ultima volta, inspiriamo, apro e respiro, portiamo la mano destra, qui all'orecchio destro, molto bene, inspiriamo, apro il petto ed espiro, chiudo, inspiriamo, apro il petto ed espiro, chiudo, ancora, tre volte, inspiriamo, apro il petto ed espiro, chiudo, ancora, inspiriamo, apro ed espiro, chiudo, Inspiriamo, apro Ed espiro, chiudo Ancora una volta Inspiriamo, apro Ed espiriamo, chiudo Attenzione, inspiriamo, apro Distendo il braccio Ed espiriamo, ruotiamo la spalla verso l'interno Quindi da di qua ruotiamo E portiamo la mano dietro la schiena Inspiriamo, apro il petto Ed espiriamo, chiudo Inspiriamo, sollevo il petto verso destra Ed espiro, chiudo Probabilmente voi lo vedete verso sinistra Ok, ma è lo stesso Quindi lo stiamo facendo con la spalla destra Quindi andiamo tutti verso destra E chiudo Ancora due volte Inspiriamo, ruoto Molto difficile questo, ed espiro L'ultima volta Inspiriamo Ed espiro Ed espiro il braccio destro Ed espiriamo Riporta l'anca in neutro Inspiriamo, extra ruota all'esterno Ed espiriamo, riporta la gamba in neutro Ancora Inspiriamo verso l'esterno Ed espiriamo, riporta l'anca in neutro Ancora due volte Inspiro, extra ruoto Ed espiro, riporta l'interno L'ultima volta L'ultima volta Inspiriamo, extra ruoto Ed espiriamo, riporto all'interno Portiamo il ginocchio destro a terra Mano a destra davanti alla mano Inspiriamo, ritorno Ed espiriamo, canami a faccia in giù 3 respiri profondi 3 respiri profondi 2 3 Molto bene Ed espiriamo Riporto le ginocchia a terra Molto bene Adesso inspiriamo Solleviamo il braccio sinistro Ed espiriamo Faccio scivolare il braccio sinistro sotto al braccio destro Ancora Inspiriamo Sollevo Ed espiriamo Lo faccio portare sotto al braccio destro Ancora Inspiro Ruoto il petto verso sinistra Ed espiro Lo faccio portare verso destra Ancora Inspiriamo Ruoto Verso sinistra Ed espiriamo Ancora una volta Inspiriamo Ed espiriamo Ed espiriamo Ruoto il torace verso sinistra Ed espiro L'ultima volta Inspiro Ruoto il torace verso sinistra Ed espiro Molto bene Inspiriamo Inspiriamo Attenzione Intraruoto la spalla sinistra Lo porto qui dietro E resto Inspiro Ruotiamo il petto verso sinistra Ed espiro Chiudo Inspiriamo Inspiriamo Ruoto il petto verso sinistra Ed espiro Chiudo Inspiriamo Ruoto il petto verso sinistra Ed espiro Chiudo Ancora due volte Inspiriamo Ed espiro Chiudo L'ultima volta Inspiriamo Ed espiro Portiamo il braccio sinistro avanti Il braccio destro sotto il braccio sinistro Appoggio l'orecchio Inspiriamo Ed espiro Attenzione Stacco la gamba sinistra Inspiriamo La sollevo verso l'alus Ed espiriamo Resto Adesso Extra ruoto Lanca sinistra Ed espiriamo L'intraruoto Riallineo il bacino Inspiriamo Extra ruoto Ed espiriamo Intraruoto Ancora Inspiriamo Extra Ed espiriamo Intraruoto Ancora una volta Inspiriamo Ed espiriamo L'ultimissima Inspiriamo Apro Ed espiriamo Intraruoto Riporto il ginocchio sinistro a terra Appoggiamo le mani a terra Inspiro Ed espiro Cambio a faccia in giù Camminiamo sul posto Lasciamo cadere un tallone E poi l'altro tallone Molto bene Attenzione Adesso Inspiriamo Vieni avanti Col piede Al lato della mano destra Ed espiriamo Cambio a faccia in giù Inspiriamo Piede sinistro Mano a sinistra Ed espiro Cambio a faccia in giù Inspiriamo Piede destro Mano a destra Ed espiro Cambio a faccia in giù Inspiro Piede sinistro Mano a sinistra Ed espiro Cambio a faccia in giù Ancora una volta, inspiro, piede destro, mano destra, cami a faccia in giù. Piede sinistro, mano sinistra, cami a faccia in giù. Attenzione, inspiriamo, vado come in affondo laterale, quindi fuori dal tappetino col piede destro. Ed espiro, cami a faccia in giù. Stessa cosa in affondo laterale verso sinistra col piede sinistro. Ed espiro, cami a faccia in giù. Ancora, destro, vai, cami a faccia in giù. Sinistro, vai, cami a faccia in giù. Destro, ancora. Molto bene, cami a faccia in giù. Sinistro, vado bene fuori. Ed espiro, cami a faccia in giù. Molto bene, attenzione, inspiro, ritorno sul destro. Stacco il braccio sinistro. Ed espiro, cami a faccia in giù. Piede sinistro fuori dalla mano. Stacco il braccio destro. Ed espiro, cami a faccia in giù. E ancora, fuori, apro. Cami a faccia in giù. Fuori sinistro, apro. Cami a faccia in giù. Fuori destro, apro. Cami a faccia in giù. Fuori sinistro, apro. Cami a faccia in giù. Attenzione, fuori destro. Apro. Ed espiriamo, infiriamo le braccia sotto alla gamba destra. Appoggiamo le mani, inspiro. Ed espiro, cami a faccia in giù. Piede sinistro fuori. Apro. Ed espiro le braccia. Infiriamo sotto alla gamba sinistra. Inspiriamo, cami a faccia in giù. Destro. Apro. Ed espiro in fondo. Inspiro. Ed espiro, cami a faccia in giù. Sinistro. Apro. Scendo giù. Appoggio. Cami a faccia in giù. L'ultima volta. Destro. Apro. Giù. Appoggio. Cami a faccia in giù. Sinistro. Apro. Appoggio. Cami a faccia in giù. Molto bene. Fai un passo e poi l'altro verso le mani. Inspiriamo ed espiriamo. Scendo giù con il petto. Vado in uta nasana. Solleviamo le braccia. Inspiro. Ed espiro, rilasso. E adesso solleviamo dal petto. Inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo. Samasiti. Ok, imposto un momento la camera qui, che è un po' bassa. Ok. Samasiti. Benissimo. Ok, inspiriamo, sollevo. Adesso ne espiriamo. Apro la spalla destra. Ritorno. Ok, inspiriamo. Solleviamo il ginocchio sinistro. Ed espiriamo. Extra. Ruoto l'anca sinistra. E ritorno. Ritorno. Sollevo il ginocchio. Apro. Ruoto all'interno. E ritorno. Sollevo. Apro. Porto giù il ginocchio. E ritorno. Ancora inspiro. Apro. Porto giù. E ritorno. L'ultima volta. Inspiro. Apro. Porto giù. E ritorno. Inspiriamo. Ed espiriamo. Appoggiamo il piede. Molto bene. Inspiriamo. Solleviamo il braccio destro. Ed espiriamo. Uttanasana. Inspiriamo. Stacco il piede destro. Ed espiriamo. Appoggiamo il piede destro dietro. Inspiriamo. Ruoto il petto verso l'esterno. Ed espiriamo. Appoggiamo le mani a terra. Attenzione ragazzi. Puntiamo questo piede destro. Andiamo all'esterno del piede. Il piede sinistro qua. Inspiriamo. Vado in style plank. Ed espiriamo. Ritorno. Inspiriamo. Solleviamo la gamba destra. Ed espiriamo. Fai un passo destro fuori. Come abbiamo fatto prima. Inspiriamo. Apro il braccio sinistro. Ed espiriamo. Infilo le braccia sotto la gamba destra. Appoggiamo le mani a terra. Espiriamo. Ed espiro. Kana faccia in giù. Guardo avanti. Inspiro. Salto. Ed espiriamo. Fletto. Uttanasana. Dal petto sollevo. Urvastasana. Ed espiriamo. Samasiti. Dall'altra parte. Il braccio sinistro. Inspiriamo. Apro. Ed espiriamo. Ritorno. Inspiriamo. Solleviamo. Il piede della gamba destra. Apre. Stravuoto. Espiriamo. Abbasso il ginocchio. Ritorno. Ancora sollevo. Con l'ultimo sinistro attivo. Apro. Ruoto. Giù. Ancora inspiro. Tieni bene l'addome. Apro. Intra. Ruoto. E ritorno. Inspiro. Apro. Intra. Ruoto. E ritorno. L'ultima volta. Apro. Intra. Ruoto. E ritorno. E ritorno. Molto bene. Inspiriamo. Allungo verso l'alto. E respiro. Salmo a siti. Benissimo. Inspiriamo. Ruotiamo la spalla sinistra indietro. Ed espiriamo. Scendo giù. Inspiriamo. Solleviamo il piede sinistro. Ed espiriamo. Fai un passo sinistro indietro. Molto bene. Inspiriamo. Apro il petto. Verso destra. Ed espiriamo. Cane a faccia in giù. Molto bene. Inspiriamo. Sollevo la gamba sinistra. E respiriamo. Fai un passo sinistro. Avanti. Inspiriamo. Solleviamo il petto. Respiro. Cane a faccia in giù. Inspiriamo. Sollevo la gamba destra. Respiro. Fai un passo destro. Avanti. Attenzione. Adesso l'esterno del piede sinistro lo faccio andare a terra. Inspiriamo il piede destro verso il sinistro. Vado in set plank. Ed espiriamo resto. Inspiriamo. Ed espiriamo. Cane a faccia in giù. Inspiriamo. Sollevo la gamba sinistra. E espiriamo. Il piede sinistro va fuori dalla mano sinistra. Fuorissimo. Inspiriamo. Apro il petto. Ed espiriamo. Tutte e due le braccia vanno sotto la gamba sinistra. Appoggio le mani a terra. Inspiro. Ed espiro. Cane a faccia in giù. Attenzione. Fa adesso un salto fuori dalle mani. Inspiriamo. Apro. Ed espiriamo. Scendo. Inspiriamo. Estendo la colonna. Ed espiro. Arrotondo. Attenzione. Inspiro. Estendo. Contra i gluti più che puoi. Ed espiriamo. Resto. Adesso solleviamo. Inspiriamo. Ed espiriamo. Samositi. Bene. Braccio. Sinistro. Inspiriamo. Apro. Ed espiriamo. Chiudo. Braccio destro. Inspiro. Apro. Ed espiro. Chiudo. Inspiriamo. Sollevo il ginocchio destro. Ed espiriamo. Apro verso l'esterno. Ruoto. All'interno. Inspiriamo. Sollevo. Inspiro. Ed espiro. Fai un passo destro dietro. Appoggio le mani a terra. Inspiriamo. Ruotiamo verso sinistra. Ed espiriamo. Resto. Vado sull'esterno del piede destro. Inspiriamo. Vado in plank. Forte la spalla sinistra. Ed espiriamo. Appoggio la mano sinistra a terra. Inspiro. Ed espiro. Cambio faccia in giù. Attenzione. Inspiriamo. Sollevo la gamba destra. Ed espiro. Porto. Piego. Scusate. Il ginocchio destro. Ed orfo. Divento come a 90 gradi. Attenzione. Portiamo il ginocchio al tetto. Extra. Ruoto l'anca. Inspiro. Ed espiro. Ritorno. Ancora uno. E ritorno. Ancora uno. E ritorno. Molto bene. Inspiriamo. Distendi la gamba destra. E espiro fuori dalla mano destra. Fuorissimo. Inspiriamo. Apro il braccio sinistro. Sollevo verso l'alto. Ed espiro. Le braccia scivolano all'interno della gamba destra. Molto bene. Appoggiamo le mani al centro. Inspiriamo. E adesso andrò a mettere il piede sinistro tra il piede destro e la mano sinistra. Vai. Qui. Ok. Bene. Inspiriamo. Vieni avanti col bacino. Ed espiriamo. Riporto qua. Vado a sedermi. Ancora. Inspiriamo. Vieni avanti col bacino e con le ginocchia. Ed espiriamo. Ritorno. Ancora. Inspiriamo. Apri bene quella spalla sinistra. E respiro. Ancora una volta. Inspiro. E respiro. Molto bene. Il piede sinistro viene dietro. Anche il piede destro. Cagno faccio in giù. Adesso guardo avanti. Salto fuori dalle mani. Ed espiriamo. Scendi giù con i glutei. Contrago al massimo i glutei. Inspiriamo. Sollevo. Ed espiriamo. Samasiti. Ok. Non è semplice. L'importante è che vi muoviate bene. Inspiro. Apro bene. E ritorno. Mantieni il bacino saldo. Inspiriamo. Ritorno. Bene. Inspiriamo. Sollevo il ginocchio sinistro. Ed espiriamo. Extra ruoto l'anca sinistra. Adesso porto giù il ginocchio. Intra ruoto. Ritorno. Su. Inspiro. Ed espiro. Fai un passo sinistro dietro. Guardi la fondo. Mano sinistra a terra. Attenzione. Inspiriamo. Apo il petto verso destra. Ed espiriamo. Resto. Mi giro sull'esterno del piede sinistro. Forte la spalla sinistra. Inspiro. Side plank. Ed espiriamo. Appoggiamo le mani a terra. Cambio a faccia in V. E espiriamo. Sollevo la gamba sinistra. Ed espiriamo. Attenzione. Questo ginocchio sinistro si piega. Adesso. Inspiriamo. Ed espiriamo. Porto la coscia e il petto. E adesso. Extra ruoto. Fai un giro del l'anca. Ed espiriamo. Ritorno. Ancora due. Ed espiro. Ritorno. Ancora tre. Mantieni saldo il lato destro. Il gluteo destro. Ed espiro. Ritorno. Fammi un altro. Inspiriamo. Ed espiro. Ritorno. Adesso distendo la gamba sinistra. Inspiro. Ed espiro. Vai fuorissimo dalla mano sinistra. Bene. Inspiriamo. Apo il braccio destro. Stieniti alto. Ed espiro. Le braccia vanno giù. Ok. All'interno della gamba sinistra. Bene. Mi appoggio e ritorno le mani al tappetino. Ok. Benissimo. Adesso il piede destro. Vatto. La mano sinistra e il piede sinistro. Sì. Ok. Adesso vieni avanti con le ginocchia. E stacca la mano sinistra. E ritorno. E di nuovo. Inspiriamo. Scivolo avanti. Vieni in avanti con le ginocchia. Ancora. Inspiriamo. Scivolo avanti. E ritorno. L'ultima volta. Inspiro. Scivolo avanti. Stacco ovviamente i talloni. Ed espiro. Ritorno. Riporto il piede destro dietro. Piede sinistro dietro. Cane e faccia in giù. Attenzione. Salto fuori dalle mani. Inspiro. Ed espiriamo. Giù col sedere. Contrago il massimo gluteo. Inspiriamo. Solleviamo le braccia. Ed espiriamo. Samasiti. Ok. Provo a sollevare. Forse no. Vabbè. Ok. Samasiti. C'è una luce un po' strana. Ok. Attenzione. Di nuovo. Piedi sotto le anche. Bene. Inspiriamo. Sollevo. Apro la spalla a sinistra. e ritorno. Inspiriamo. Apro la spalla a destra. E ritorno. Attenzione adesso. Dall'interno delle braccia. Inspiriamo. Apro. Ed espiriamo. Vado a portare le braccia sotto le gambe. Chiuse le spalle. Vado come a schiacciare con le spalle e le orecchie. E adesso ritorno. Inspiro. Apro. E respiriamo. Chiudo. L'ultima volta. Inspiriamo. Apro. E respiriamo. Chiudo. Benissimo. Inspiriamo. Apro. E respiriamo. Resto. Premo sul piede sinistro. Inspiriamo. Sollevo. Ed espiro. Extra ruoto. Lanca a destra. Adesso abbassa il ginocchio sinistro. Intraruoto. Inspiriamo. Sollevo. Ed espiriamo. Intraruoto. Inspiriamo. Sollevo. Ed espiriamo. Intraruoto. Ancora due ragazzi. Inspiriamo. Sollevo. Apro. Ed espiriamo. Intraruoto. L'ultimo. Inspiriamo. Sollevo. Apro. Ed espiriamo. Intraruoto. Inspiro. Sollevo. Ed espiro. Fai un passo. Destro. Dietro. Appoggio. Le ginocchia a terra. Attenzione. Vado sull'esterno del piede destro. Inspiriamo. Vado in side plank. Ed espiriamo. Riporto la mano sinistra a terra. Attenzione. Inspiriamo. Porto il ginocchio destro al tetto. Ed espiriamo. Cambio a faccia in giù. Attenzione. Adesso. Inspiriamo. Ed espiro. Fai un passo destro fuorissimo dalla mano destra. Bene. Inspiriamo. Sollevo il braccio sinistro. Ed espiriamo. Porto le braccia sotto alla gamba destra. Portiamo le mani di nuovo al tappetino. Inspiriamo. Vieni avanti. Attenzione. Col piede sinistro tra la mano destra e la mano sinistra e scivolo. Scendo giù. Ok? Questa gamba, quindi sono col sedere a terra. La gamba sinistra è sollevata. Ok? E adesso sollevo. Inspiro. E giù. Due. Tre. Quattro. Cinque. Piede a martello. Sei. Vai. Sette. Vai. Otto. Ok. Il peggio deve ancora arrivare. Premo sul piede destro. Inspiriamo. Vieni avanti con il ginocchio destro. Solleva la gamba destra. E andiamo su. Uno. Due. Tre. Contraggo bene i glutei. Tieni bene con la spalla sinistra. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Molto bene. Appoggi il piede sinistro. Inspiriamo. Vieni avanti. Stacca i talloni. Ed espiriamo. Li riappoggi. Ancora. Inspiriamo. Vieni avanti. Distendo. Ed espiriamo. Mi chiudo. Sì? Come un fiore che sboccia. Inspiro. Vengo avanti. Ed espiro. Ancora una volta. Inspiro. Lo so che la spalla sinistra sta gridando aiuto. ma va bene. Inspiriamo. Ritorno. Ed espiriamo. Bene. Adesso la gamba sinistra viene qui. Inspiriamo. Ritorno dietro la gamba sinistra. Ed espiro. Cagno a faccia giù. Bene. Salto. Fuori dalle mani. Inspiro. Ed espiro. Fletto. Butta la nasa. Inspiriamo. Sollevo. Urva stasana. Ed espiro. Sono assiti. Bene. Accendo la luce. Sì. Ok. Inspiriamo. Apro la spalla. E espiriamo. Ritorno. Inspiriamo. Apro la spalla. E espiriamo. Ritorno. Fai spazio tra i piedi. Inspiro. Apro. Se levo. Come ad aprire una conchiglia. Ed espiriamo. Chiudo. Vado sotto. Inspiriamo. Apro. Ed espiriamo. Chiudo. Vado sotto. Ancora una volta. Inspiro. Apro. Ed espiriamo. Chiudo. Vado sotto. Bene. Ispiriamo. Apro. Ed espiriamo. Resto. Solleviamo il piede sinistro. Inspiro. Ed espiro. Extra. Ruoto l'anca sinistra. Ruoto all'interno. Ed espiro. Ritorno su. Attivo il gluteo destro. Apro. E ritorno. Ancora due volte ragazzi. Apro. E ritorno. L'ultima volta. Apro. E ritorno. Molto bene. Inspiro. Tieni l'addome. Ed espiro. Fai un passo. Sinistro dietro. Appoggio. Il piede sinistro. E la mano sinistra. Inspiriamo. Apro. Verso l'esterno. Ed espiriamo. Resto. Vado all'esterno del piede sinistro. Inspiriamo. Side plank. Ed espiriamo. Appoggiamo le mani. Attenzione. E espiriamo. Porto il ginocchio sinistro. Il petto. Ed espiro. Sollevo la gamba sinistra. Inspiro. E respiro. Vai fuorissimo. Col piede sinistro. Lì. Ok. Attenzione ragazzi. In giro il tappetino. Che sennò non vedete una caspita. Di niente. Ok. Quindi sono qua. Bene. Adesso da di qua. Inspiriamo. Col piede destro. Vado. all'interno di quella gamba. Ok. E sono qua. Quindi all'interno della mano e del ginocchio. Ruoto verso l'esterno. E andiamo su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ok. Adesso. Eravamo qui giusto? Bene. Adesso. Spremo bene sulla spalla destra. Bene su. Scivolo avanti. Ok. E il resto lì. E solleva. Vai. Uno. Due. Tre. Tieni adesso la spalla stabile. Quattro. La spalla destra intendo. Quella che tiene la mano cinque. Appoggiata. Sei. Vai. E sette. E un altro. Otto. Grande. Ok. Gli appoggiamo i piedi. Adesso mi chiudo. Inspiro. E respiro. Scivolo avanti. Mi chiudo. Vai. E scivolo avanti. Senti bene quella spalla. Mi chiudo. Glutei. E vai. E ancora. Un'altra volta. Uno. Vai. Molto bene. Ritorno. Piede destro. Scivola dietro. Ok. Cami a faccia in giù. Tre respiri profondi. Uno. Due. Tre. Molto bene. Fai un salto fuori dalle mani. Inspiro. Ed espiriamo. Resto. Attenzione. Ruoto il ginocchio all'interno. Quindi interrotazione dell'anca. Ed espiriamo. Apro. Appoggio. Intrarotazione dell'anca sinistra. E qua. Appoggio. Intrarotazione dell'anca destra. Appoggio. Intrarotazione dell'anca sinistra. Appoggio. Ancora uno. Destra. Vai. Appoggio. Sinistra. Appoggio. Ok. Sollevo. Inspiro. E respiro. Vai. Chiudo. Verso l'interno. Ok. Sono qua. Apriamo ben i piedi. Un pochettino. Inspiriamo. Ed espiriamo. Scendo giù. Scendo giù. Ok. Ovunque voi abbiate i talloni non importa. Ok. Ok. Voglio che invece stringiate più che possiate i glutei. Ok. Il più possibile. Stringo i glutei. E vedete che le ginocchia vanno verso l'esterno. Ok. Inspiriamo. Ed espiro. Scendo giù. Ok. Attenzione. Portiamo qua. Siamo seduti. Abbiamo qui. Quindi abbiamo la gamba destra che è ruotata verso l'interno. La gamba sinistra verso l'esterno. Le braccia sono qua o possiamo tenerle in appoggio. Inspiriamo. Sollevo. Attivo il gluteo destro. Espiriamo. Scendo. Sollevo le ginocchia. Ruoto dall'altra parte. Inspiro. Sollevo. Espiriamo. Espiriamo. Scendo. Ruoto verso sinistra. Inspiro. Attivo i glutei. Espiro. Ruoto verso destra. Espiriamo. Espiriamo. Ruoto. Ruoto. Sollevo. Appoggio. Adesso col braccio. Mano sinistra. Su. Appoggio. Col braccio destro. Su. L'ultima volta ragazzi. Appoggio su. Sollevo. E. L'ultima volta ragazzi. Dall'altra parte. Qua. Appoggio la mano. Sul sollevo. Appoggio la mano. Sul sollevo. Appoggio. Attenzione. Giro dall'altra parte. Appoggio. Sul sollevo. Distendo la gamba a destra. Appoggio. Giro. Sul sollevo. Distendo la gamba a sinistra. Appoggio. Giro. Su. Distendo la gamba a destra. Appoggio. Distendo la gamba a sinistra. Molto bene. Attenzione. Incrociamo le gambe. Appoggiamo le mani a terra. E. Ci ritroviamo qua. Molto bene. Attenzione. Portiamo il braccio sinistro avanti. Inspiriamo. Ed espiriamo. Andiamo a. Portare la spalla a destra. Bene appoggiata giù. Ok. Come se volessimo. Ascoltare il pavimento. Ok. Sollevo il braccio sinistro. Ed espiriamo. Appoggio la mano a sinistra. Ritorno. Appoggio la mano a destra. La spalla a sinistra scende. Provo. Attenzione. A venire con il sedere. Come se volessi buttarmi verso sinistra. Appoggio. Ritorno. Appoggio delicatamente con la spalla a destra. Immagino come di voler fare una capriola sulla destra. E ritorno. Appoggio. Spalla a sinistra. Voglio fare una capriola sulla sinistra. Ma non la faccio. Appoggio. Ritorno. Ancora. Destra. Ritorno. E stop. Ok. Incrociamo le gambe. Appoggiamo il sedere a terra. Appoggiamo i piedi a terra. Inspiro. Ed espiriamo. Scendo giù lentamente. Ok. Questa volta mi rigiro da quest'altra parte. Ok. Molto bene. Attivo bene i glutei. Inspiriamo. Le ginocchia vengono avanti. Ed espiriamo. Scendo giù. Attenzione. Prima solleviamo il piede. Resto. Sollevo. Inspiro. Ed espiriamo. Manteniamo la gamba a 90 gradi. Inspiro. Ed espiriamo. La cavalliamo. Inspiro. Ed espiriamo. La riappoggiamo. Inspiro. Sollevo la gamba sinistra a 90 gradi. Espiro. La cavalliamo. Inspiro. Ed espiriamo. Scendo. Adesso ne portiamo le ginocchia verso il petto. Sempre a 90 gradi. Attenzione. Le ginocchia si aprono verso l'esterno. Inspiro. E verso l'interno. E di nuovo apro. E chiudo. E di nuovo apro. E chiudo. Ancora apro. E chiudo. Sento bene il movimento delle anche. Apro. E chiudo. Attenzione. Le ginocchia destro viene al petto. La gamba sinistra si distende. Il braccio sinistro scivola indietro. Ed espiriamo. Le lasciamo cadere il ginocchio destro verso l'esterno. Inspiro. Ed espiro. Ritorno al centro con il ginocchio destro. Sul ginocchio sinistro. Inspiriamo. Ed espiriamo la gamba destra. Scendo giù. Il braccio sinistro viene dietro. Il ginocchio sinistro va verso terra. Inspiriamo. Ed espiro. Inspiriamo. Ritorno al centro. Ed espiriamo. E adesso senza braccia. Andiamo proprio a lasciare andare il ginocchio destro e sinistra. Molto bene. E adesso ci mettiamo sul fianco. Andiamo su. Ritorniamo a gambe incrociate. Possibilmente nella posizione della modalità dove non le mettereste naturalmente. appogliamo le mani sulle ginocchia. Riposiamo lo sguardo. E sentiamo. Osserviamo la sensazione che abbiamo sulle nostre spalle. Sulle nostre anche. Ma fondamentalmente in tutto il corpo. Facciamo a fare Shavasana se volete. Abbiamo visto che nella nostra pratica abbiamo fatto dei movimenti che andavano a focalizzarsi appunto. Lo avete visto sulla mobilità ma anche sulla stabilità. Non c'è mobilità se non c'è anche capacità di mantenere stabilità sia nell'anca che nelle spalle. Ok? Quindi in un side plank io devo poter da un lato extra ruotare la mia spalla. Ok? Ma allo stesso tempo mantenerla stabile. Questo è un esempio. Ok. Grazie mille. Ci vediamo dopo se volete alle 19 e 35. Con una lezione di Young Yoga. Grazie. Baci. Ciao. 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 Ciao.